Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video dedicato alla nostra amatissima sopopera dei dreamer leali del sogno ebbene perché c'è una grande novità, sbarca sulla 5 dall'8 novembre, ma vediamo un attimo i dettagli, che cosa succederà e come è messa come orario anche nel weekend quindi seguitemi che a breve vi darò tutte le informazioni a partire da domenica 8 novembre ci sarà una nuova programmazione di dei dreamer leali del sogno sarà trasmessa in esclusiva sulla 5 e partirà dalla primissima puntata trasmessa ovvero quest'estate che è stata in grado di conquistare il pubblico italiano e il grande successo ha permesso così di farla arrivare persino sulla 5 con un bel doppio appuntamento perché durerà più di due ore la messa in onda infatti è prevista con un doppio episodio a partire dalle 19 e 15 fino alle 21 e 10 circa quando poi la linea tornerà nuovamente ai programmi di la 5 e così noi telespettatori riusciremo a rivivere nuovamente la favola di Jeanne e Sanem la 5 ha bisogno di ascolti e quindi molto probabilmente proporre dei dreamer potrebbe risultare fortunato per il canale infatti in questi mesi la SOP ha confermato il suo alto pubblico quindi è sempre stata super seguita a superare persino la soglia di 2 milioni e 400 mila telespettatori quindi tra uno share che è tra il 16% e il 18% quindi super seguita resta invece ragazzi confermato l'appuntamento nel weekend con dei dreamer in prima visione assoluta sabato 7 novembre la serie andrà in onda a partire dalle 14 e 15 circa fino alle 4 con la puntata poi speciale della durata di quasi due ore domenica invece l'appuntamento ritorna sempre su canale 5 dalle 16 e 20 circa prima di dare spazio a Barbara D'Urso con domenica live io nel frattempo ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale perché prestissimo usciranno le anticipazioni di sabato e domenica di dei dreamer leali del sogno vi auguro una buona giornata da Angela da Tutto dal Web